e allora dai dai su via via vai su via così da primo acchito l'ha fatto come non me la sento no perché se me la sentivo lo facciamo guarda aspetta un momento che la senti ecco adesso la si no 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 quello sicuro vuoi dir giuro ma come ti 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 ci sono le 11 9 10 metti la moto e stai qua per le zone hai visto? si ma questo qua se lo fai ultimo a centrare c'è anche tutte le righe delle lumache guarda si ma te ma va a prendere la rincorsa giù al fiume porca vediamo da qua cosa viene fuori dai 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 un po' più un po' più lungo perché se ne allunghi un pelo vai fuori più diritto non ci arrivavi come cazzo vabbè mettere il piede qua non c'è la camba così eh non c'è la camba così